nasce il nuovo acceleratore della rete nazionale cdp per le start up del settore edu tech future ed il primo programma di accelerazione interamente dedicato all'educazione digitale per accelerare la crescita e sostenere l'innovazione di 30 start up in tre anni un percorso di otto mesi incentrato su tre anni formazione scolastica formazione universitaria formazione aziendale formazione continua insieme a age farm e a primari partner per scoprire come candidare la tua start up visita il sito grazie a tutti